Siamo stati bravi a gestire una squadra che era in forma, una squadra che era al completo. Siamo stati bravi a fargli fare quello che volevamo noi, in non possesso. In possesso l'abbiamo messa molto in difficoltà. A me è piaciuta la reazione, sono stati bravi. Questa è l'unica strada che conosco nel calcio, quella di lavorare, andare avanti, cercare di recuperare gli infortunati. Perché è normale che quando affronti una squadra del genere che ti mette cinque giocatori di categorie importanti e tu magari non riesci a controbattere, è difficile. Però sono contento dell'atteggiamento dei miei giocatori. Il fatto che sono usciti tra gli applausi fa capire a tutti quanti che questa è la strada giusta. Ringrazio i tifosi perché per uscire da questi momenti c'è bisogno di tutti. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento che hanno avuto, certo. Come ho detto anche negli spogliatoi, in questo momento non puoi permetterti di arrivare in ritardo su un lancio lungo di 60 metri, non puoi permetterti la gomitata perché lasci i tuoi compagni in dieci. Dobbiamo essere perfetti. Perché quando ci sono questi momenti qui che sei in emergenza, che triplichi le tue forze dopo la prima errore ti castigano. E noi per vincere la partita in questo momento dobbiamo essere perfetti.